Il premio europeo Madre Teresa di Calcutta, istituito dal Movimento Per la Vita, è giunto alla quinta edizione e è stato consegnato questa mattina a Roma. Vediamo. È una scelta che vuole segnare una strada per la nostra società, quella del premio europeo per la vita intitolato a Madre Teresa di Calcutta. Un riconoscimento assegnato alle Madri d'Europa, una moltitudine che con la propria accoglienza e il proprio coraggio ogni giorno celebra la voglia di vivere. Testimonianza che talvolta assume caratteri eroici, come quelli dell'Associazione Quercia Millenaria, che aiuta a difendere la vita dei bimbi in gestazione di fronte a diagnosi di malformazione. O come l'intera esistenza di mamma Irene di Nomadelfia, oggi novantenne, pioniera di una nuova dimensione materna, tutta dedicata ai piccoli senza affetti. Io ho avuto 58 figli, tutti piccoli però, appena nati, o di qualche anno, di qualche mese, tutti piccoli. Tutti piccoli, e poi è una cosa così bella perché loro hanno bisogno di tutto, hanno bisogno della carezza, hanno bisogno del bacio, hanno bisogno di essere un po' sgridati, hanno bisogno di non dire bugie, hanno proprio bisogno. Se dovessi tornare ai miei 18 anni, rifarei tutto da capo, perché di cui il bene non va mai perduto. Per arrivare al sacrificio supremo, quello di Chiara Corbella, giovane romana, che preferì far nascere il suo Francesco, piuttosto che abortire e curare il tumore che l'aveva presa. Tra tre giorni saranno sei mesi dalla sua morte, e con gioia e commozione in molti la ricordano. Primo fra tutti, suo marito Enrico. Il mio desiderio è proprio questo, di vivere sta vita sapendo che non finisce, siamo nati e non moriremo mai più, è una frase che tocca molto ai cuori, insomma, la vivevamo molto profondamente con Chiara, e io e Francesco spero di insegnarglielo anche a lui, di viverla io personalmente. Però sapere che tanta luce si sta diffondendo sicuramente ci fa intuire un grande progetto di Dio che va sempre oltre i nostri limiti, è quello che noi come progetti umani potevamo immaginare.